Vaccino Covid. Sono iniziate le somministrazioni per la fascia d'età 5-11 anni negli hub dedicati e dai pediatri. Il via simbolico delle inoculazioni al hub vaccinale bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo in via Gorizia a Torino. È un passo importante perché ampliamo ovviamente la copertura vaccinale anche per quella popolazione che fino ad oggi non ha ricevuto il vaccino. Ricordiamo ancora una volta l'importanza di vaccinarsi sia per gli adulti che per i bambini. Vaccinarsi significa prevenire le forme più importanti, più gravi del Covid ma anche diminuire la velocità dei contagi, la ridurre i contagi. Quindi avere questa opportunità sia adesso per le terze dosi ma anche chi non avesse effettuato la prima dose e le vaccinazioni pediatriche rappresentano un'opportunità per tutti di proteggersi dal Covid sia per se stessi sia per la comunità. Fondi del PNRR presentata la cabina di regia tra comune di Torino, città metropolitana e regione Piemonte. Insieme al sindaco Lorusso abbiamo presentato la cabina di regia che indirizzerà e gestirà i fondi del PNRR per quanto riguarda la città di Torino, la provincia di Torino insieme le due università, l'università degli studi e il Politecnico che ci permetteranno di aprire quella che chiamiamo la fase 2 del PNRR regionale che parte dal lavoro fatto l'anno scorso in primavera che ha censito attraverso il meccanismo richiesto dall'Europa del bottom up oltre 3.000 progettualità e che oggi deve prendere queste progettualità e scegliere, scegliere naturalmente di non dividere in troppi rigagnoli le risorse europee ma di destinarle a quelle che sono le missioni, le sei missioni principali insieme perché dalle difficoltà si esce solo lavorando insieme. Chiari, efficaci, efficienti è il titolo scelto per il convegno al Palazzo della Regione dedicato alla giornata della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Dobbiamo sempre perseguire l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dei nostri interventi e la trasparenza è uno dei mezzi che ci aiuta in questo percorso. Oltre a un obbligo di legge è un imperativo morale specie in sanità perché contrastare fenomeni corruttivi, contrastare comportamenti poco corretti è veramente un dovere morale. Con queste metodologie riusciamo a efficientare la pubblica amministrazione e a implementare quella cultura della legalità che è la base del buon funzionamento dell'amministrazione pubblica. Per esempio io ho istituito un settore di vigilanza, trasparenza e anticorruzione all'interno della sanità, abbiamo un progetto con Agenas per la formazione degli addetti alla trasparenza dell'anticorruzione, abbiamo redato un codice comportamentale per tutte le aziende sanitarie proprio a contrasto di quei comportamenti borderline o deviati o di quei fenomeni corruttivi che vogliamo impedire con tutti i mezzi. A chiudere i lavori il presidente della regione Alberto Cirio che ha ricordato come oggi il rispetto della legalità significhi anche vaccinarsi. I tre Lilu compiono 30 anni. Il celebre gruppo musicale e cabarettistico festeggia il traguardo presentando il nuovo disco in regione Piemonte. A omaggiare la band anche il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla cultura Vittoria Poggio. È un'emozione essere qui in regione Piemonte proprio per festeggiare i nostri 30 anni. Il nostro pubblico che è il pubblico della regione Piemonte, la nostra lingua che è il dialetto piemontese ci hanno portati qui ed è una grande emozione. Noi non facciamo canti tradizionali piemontesi, sempre composizioni nostre sia testo che musica, però ormai sono entrate, dopo 30 anni è anche giusto che le canzoni fatte dai tre Lilu entrino a far parte della tradizione. Non ci siamo mai preoccupati molto di studiare il passato, siamo un po' somani in quel senso lì ci piace scrivere cose nuove e lo facciamo con divertimento e questo forse è il modo migliore di andare avanti. Il nome è Tre Lilu, anche se siamo in quattro, tre scemotti. Il nome è Tre Lilu, anche se siamo in quattro, 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 Grazie a tutti